Una serata di grande musica, quella che si preannuncia per sabato 12 maggio ad Albosaggia, nei locali dell'Hotel Campelli. Note gourmet. Questo è il titolo della Kermesse che vedrà sul palco l'esibizione della cantante Mietta affiancata dal pianista Dado Moroni e, sulle tavole dei presenti, un menu in perfetta sintonia con l'offerta musicale della serata. Una combinazione oramai rodata, quella di Mietta e Dado Moroni, e che vede da una parte una delle voci più rappresentative e particolari della tradizione pop italiana, e dall'altra un pianista, interprete a livello mondiale, del jazz piano e dell'accompagnamento. Un cartellone dalle chiare premesse che recita quando il jazz fa pop. E qui la combinazione tra i due artisti è davvero ben augurante. Inconfondibili timbriche vocali dal sapore mediterraneo, sanguigno, sposate a note raffinate ma dall'ampio respiro, aperte a sperimentazioni che, sovente, oltrepassano i cliché tradizionalmente jazzistici. Partiremo italiano, francese, portoghese, un po' questo, un po' quell'altro. Rivisiteremo in chiave jazz anche un mio brano molto famoso, proprio per far intuire quanto la musica si possa veramente amalgamare tutta. Una cosa abbastanza eclessica come progetto ed è molto molto bello per me da cantare e probabilmente anche da ascoltare. Credo che quando c'è qualità e musica e musicalità e l'ogia di incontrarsi ci sia terreno fertile per qualsiasi cosa. Quindi i brani che affronteremo saranno un bel misto tra quello che il mio mondo, quello che è il suo, alcune sortite da parte sua del mio mondo, quindi con alcuni standard del jazz.